In Polonia un operaio costa 4 euro l'ora contro i 13 in Italia ed è anche per questo che Electrolux ha deciso di spostare alcune linee produttive del gruppo tagliando la forza lavoro in Italia. Il piano di esuberi interesserà tre dei quattro stabilimenti nazionali, Susegana in Veneto, Porcia in Friuli Venezia Giulia e Solaro in Lombardia per 261 unità le quali si aggiungono circa 200 elementi amministrativi. Dopo l'annuncio questa mattina nello stabilimento di Susegana si è tenuta una prima assemblea a cui ha fatto seguito una manifestazione che ha portato all'occupazione temporanea della statale Pontebana. Solidarietà dal governatore del Veneto Luca Zaia che ha detto che sulla vicenda è in accordo con l'omologa del Friuli Deborah Serracchiani. Quanto riguarda Electrolux è scandaloso quello che sta accadendo, ci dicono con chiarezza che vogliono dismettere la loro presenza in Italia nelle nostre regioni. Per noi è come se chiudesse la Fiat a Torino, ho sentito anche ieri sera Debora Serracchiani, siamo totalmente in piena sintonia. Il problema del Friuli Venezia Giulia per Electrolux è il problema dei Veneti e il problema dei Veneti per Electrolux è il problema del Friuli Venezia Giulia. Niente guerra tra poveri, capiamo le difficoltà delle imprese che in un sistema paese come quello di italiano che non riesce a creare le condizioni per le imprese le fa scappare. Perché capiamo di avere una pressione fiscale media del 68,5% contro una media europea del 46% e contro una carizia che fa pagare il 26% di pressione fiscale. Il governo si dia una mossa, si dia un colpo di reni forte, approfitti della discussione in Parlamento della legge di stabilità per rilanciare l'economia. Un'economia che va rilanciata non dopo aver chiuso tutte le imprese ma va rilanciata prima. Cuneo fiscale, più soldi in busta paghe dei lavoratori, diminuzione della pressione fiscale e tutta una serie di defiscalizzazioni per promuovere l'economia. Iniziando da queste imprese tipo Electrus che non deve licenziare dipendenti ma deve investire ancora di più qui da noi e assumerne. Il grido d'allarme che si solleva da questa occupazione deve essere colto a tutti i livelli, a livelli di pubblica amministrazione, di comuni, di province, di regione, di regioni, del fatto che comunque il governo debba intervenire. Perché ricordiamolo fino in fondo, noi possiamo essere presenti sul fronte degli ammortizzatori sociali, possiamo essere presenti con la nostra finanziaria regionale per quel che si può fare, per quello che è previsto dalla legge. Ma chi può decidere le sorti di un paese è l'azione del governo e del Parlamento. In questo momento il Parlamento discute la legge di stabilità, si approfitti della legge di stabilità per introdurre i correttivi giusti per far restare l'Electrolux insediata qui da noi in Veneto, come in Friuli Venezia Giulia, piuttosto che nelle altre regioni, dove è presente e non si faccia una legge di stabilità come quella che è stata proposta al Parlamento che non serve a nulla per le imprese.